Sono stati due giorni di grande partecipazione di cittadini nel fine settimana appena trascorso per quanto riguarda l'Open Week dedicato alle vaccinazioni che si è svolto presso diversi comuni del Cilento. Il centro vaccinale Covid-19 Cittadi Agropoli, sito in Via Taverne, il distretto sanitario 70 e l'Asera Salerno, in collaborazione con l'amministrazione comunale della Cittadi Agropoli, sabato 1 maggio, ha registrato 220 cittadini vaccinati, mentre domenica 133 sono stati coloro che hanno ricevuto la prima dose. Un risultato importante raggiunto anche grazie alla collaborazione dei medici di base, la Croce Rossa italiana, Comitato Agropoli e del Cilento, il gruppo comunale di protezione civile della Cittadi Agropoli e i ragazzi del gruppo scout di Agropoli. Nella vicina Capaccio Pestum, presso il centro vaccinale a domicilio, mille sono stati gli utenti in totale che hanno ricevuto il vaccino. Sabato il centro vaccinale ha registrato un po' di disagi riguardo l'organizzazione e assembramenti, ma domenica 2 maggio tutto è andato come da protocollo e si è raggiunto un ottimo risultato. Anche qui fondamentale è stato il supporto della Croce Rossa e della protezione civile. Disagi e lunghe code e assembramenti si sono registrate anche presso il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania. Nella prima giornata di Open Day, 350 sono state le dosi somministrate, mentre domenica 480. Grande il lavoro dei sanitari per questa due giorni. Nel comune di Castellabate, 258 le persone vaccinate, nella due giorni e 66 non deambulanti. È stato un weekend particolare per noi, senza mare, gite fuori porta, ma per un grande obiettivo, rinascere, fanno sapere da Palazzo di Città. L'Open Day a Castellabate continuerà anche per i prossimi giorni, a partire da oggi, lunedì 3 maggio, domani, martedì 4 e mercoledì 5 maggio, dalle ore 15 alle 19. A Roccadaspide l'Open Day si è svolto solo nella giornata di sabato e sono state vaccinate oltre 400 persone. Anche nel comune montano un bel risultato di partecipazione.